Bentornati e buongiorno Verona siamo di nuovo insieme oggi parliamo di spettacoli parliamo di spettacoli estivi parliamo di un festival che abbiamo già avuto ospite qui nei nostri studi esattamente un anno fa era la prima edizione anzi l'edizione zero questa è la seconda edizione quindi diciamo che ce l'hanno fatta per adesso e diamo subito il benvenuto a davide dettoni e aurora ziviani di indomati festival benvenuti ragazzi grazie allora è un piacere avervi qui perché vuol dire che la prima edizione è andata bene innanzitutto innanzitutto direi così ecco questa seconda edizione partirà il primo settembre si concluderà il 4 quindi diciamo c'è ancora un mesetto circa per aggiustare tutte le cose diciamo arrivare veramente a insomma questa seconda edizione come vi state preparando innanzitutto poi andiamo a spiegare anche che cosa andremo a vedere allora siamo principalmente stiamo completando il programma è un programma di quattro giorni è un programma molto fitto e abbiamo dall'uno settembre abbiamo forno di meco in compagnia di due ragazze di bologna che portano vista cielo esatto e un concerto quest'anno tenteremo di unire musica arti performative danza quindi puntare sul teatro ma cercare un po di allargare allargare gli orizzonti per quanto riguarda invece il secondo giorno 2 settembre ci abbiamo due ragazzi che vengono dall'accademia nico pepe quindi vengono da udine e sono nicola lorusso e giulio macri che portano memory giusto si chiama lo spettacolo e quindi insomma felici perché sono due ragazzi che ci dicono essere molto talentuosi quindi non vediamo l'ora di conoscerli anche loro felici di venire di raggiungerci e di scoprire il posto poi 3 settembre abbiamo la serata diciamo che abbiamo deciso di chiamare tutto niente è una serata in cui presentiamo appunto una performance di danza sono tre ballerine tre giovani ballerine che portano solitario e poi abbiamo un concerto in esterna con un gruppo veronese che si chiama hot tipots ok hot tipots quindi c'è tegliere tegliere casa fantastico benissimo è un nome un programma poi finiamo il 4 settembre con il collettivo degli artieri da bologna esatto sono due ragazzi da bologna che loro hanno fatto l'accademia di teatro alessandra galante garrone e portano uno spettacolo intitolato andrea ecco ok beh allora io direi che il programma è bello fitto bello corposo e interessante soprattutto e adesso andiamo a spiegare un attimo chi siete chi è cos'è indomati festival anche perché voi avete sempre spesso detto in questi primi minuti avete sottolineato spesso giovani giovani perché effettivamente indomati festival è dedicato ai giovani ai giovani talenti ecco voi perché avete dato vita a questo festival che lo ricordiamo lo ripetiamo è alla seconda edizione allora questo festival è dedicato ai giovani ed è anche creato da giovani questo è stato un po diciamo secondo me il punto di forza questo festival è nato nel 2020 è nato dopo appunto la pandemia io Aurora Ziviani Davide Togni e Clara Danese ci siamo ritrovati a Verona dopo aver studiato tutti e tre a Bologna e ci siamo resi conto che insomma sentivamo la mancanza di un luogo di un luogo di incontro di un luogo di sperimentazione teatrale e di un teatro fatto appunto da giovanissimi ragazzi perché le compagnie sono tutte under 35 e che portasse e avvicinasse il teatro anche ai giovani e ci siamo resi conto che sentivamo la mancanza a Verona di un teatro così quindi abbiamo fondato questo festival e siamo arrivati alla seconda edizione no? sì 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 infatti la possibilità di avere delle alternative a Verona e anche in provincia soprattutto perché le province sono sempre quelle che... non sempre perché a volte in provincia capita di trovare a volte molte più opportunità assolutamente però il fatto di trovare che il teatro diventi un po' un punto di cosa facciamo stasera dai troviamoci lì certo e scopri nuove cose e magari riconosci che magari andare a teatro la sera può essere un'alternativa valida eh sì assolutamente ecco tra l'altro parliamo di San Giovanni Lupatotto parliamo di altri posti in piedi che è una vecchia conoscenza di Radio Adige TV quindi insomma diciamo che le premesse le basi sono solidissime senza di loro non avremmo fatto niente dobbiamo ringraziare davvero perché il luogo è concesso da altri posti in piedi è il cinema Teatro Astra a San Giovanni Lupatotto è un bellissimo spazio poi tutti loro all'interno da Marco, Pomari, Noemi, Davide, Luca, Stefano sono veramente una squadra eccezionale ci hanno aperto le porte assolutamente confermo ecco tra l'altro voi ovviamente con questa seconda edizione siete andati anche un pelo più in là quindi avete dato vita a un crowdfunding per riuscire diciamo a magari sopperire a quei costi che effettivamente ci sono sì abbiamo aperto questa raccolta fondi per poter far crescere il festival l'idea è quella di portarlo avanti di crescere ogni anno di fare rete il più possibile e vorremmo riuscire a dare il festival che si meritano sia gli artisti che partecipano diciamo come professionisti comunque al nostro festival sia al pubblico quindi l'idea è di rendere diciamo il festival migliore di anno in anno e abbiamo aperto quindi questo crowdfunding aiutati da altre due giovanissime ragazze vale la pena dirlo che sono giulia foss esatto e simona cosimo che ci hanno aiutato con la parte di comunicazione e di grafica e sono state fondamentali quest'anno certo beh sono diciamo due ruoli chiave effettivamente poi da questo ci siamo resi conto come il nome aracne ecco io sono curiosa perché perché aracne perché si chiama aracne edizione sentiamo allora principalmente parte tutto dalla mitologia giusto quindi questa figura di aracne a noi ci piaceva la metafora della tela ok e quindi si tratta proprio di anno in anno di andare ad allargare questa tela con naturalmente il pubblico che speriamo sia sempre di anno in anno più attratto e numeroso ma anche proprio dall'organizzazione perché siamo resi conto che per riuscire a far crescere una cosa così c'è bisogno di una mano e da questo punto di vista Giulia Fossa e Simona Cosimo sono state fondamentali assolutamente ci credo ci credo ecco anche guardando insomma il crowdfunding che avete al quale avete dato il via tra l'altro appunto lo stiamo vedendo quindi chiunque dei nostri telespettatori volesse contribuire lo può fare tranquillamente trova tutti i riferimenti sui vostri siti social quindi insomma si riesce in qualche modo ad arrivarci insomma c'è gente anche che ha già donato state andando avanti voi quando è che chiuderete la raccolta fondi? pensiamo di chiuderla in realtà nei giorni poco prima del festival sì 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 di tenerla aperta fino al festival mi sembra giusto ecco per quanto riguarda poi invece proprio un discorso che riguarda il teatro il teatro è Verona perché Verona insomma è la città dell'opera quindi Aida, Nabucco, Traviata vi stiamo vedendo in queste serate ecco d'estate però anche fuori camera ne parlavamo prima Verona non è, non riesce a coinvolgere molto le giovani generazioni non riesce a farle andare al teatro ecco come mai secondo voi che siete addetti ai lavori insomma? io penso che non ci siano delle colpe ben precise da una parte o dall'altra cioè penso che sia semplicemente una questione di speranza ma anche di tempo cioè comunque da una parte essere in grado di offrire un palinsesso interessante una proposta anche che si rinnovi ecco questo penso che sia la parte fondamentale per Verona cioè riuscire a rivoluzionare a rinnovare un po' la proposta che viene fatta nei teatri e dall'altra parte poi c'è bisogno proprio che le nuove generazioni giovani come dicevo prima possono ritrovare nel teatro un'alternativa di incontro per la sera certo quello naturalmente è una cosa che va di pari passo da una parte e dall'altra ecco sì effettivamente è un ragionamento giustissimo però forse è un qualcosa che richiede un po' un po' di tempo secondo voi quali sono i meccanismi da oliare ecco? beh per esempio l'idea del festival è proprio quella di far riconoscere i giovani nei giovani quindi anche l'idea di far sentire il teatro come qualcosa di più vicino sì io ho credo che questo possa fare tanto di far riconoscere il teatro come un'arte in presenza quindi l'emozione del fine spettacolo dell'applauso di vedere da vicino dei giovani attori emozionarsi e vivere insieme con te questa emozione questo è penso il momento più bello o almeno per me sì 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 no beh da dentro da praticando il mestiere ovviamente queste sono le cose che più ti rimangono e penso che un pubblico se viene a vedere se ne accorge di queste cose qui dall'altra parte come possono essere delle piattaforme oggi utilizzate dai giovani per passare una serata quindi tutto quello che è piattaforme tu puoi andare a vedere film o altre cose se ti viene fatta un'offerta di qualità anche nel teatro caspita trovi il piacere anche di dire andiamo a vedere cosa fanno invece di stare sul divano a guardare la televisione esci vai a teatro e vedi persone carne e ossa questa idea di sì effettivamente è un'altra cosa sì e poi c'è anche il dopo spettacolo il primo spettacolo è un momento di comunione su questo noi puntiamo tanto è un momento in cui le persone si incontrano sia teatro che poi dopo insomma questa è un po' l'idea del festival far incontrare ecco adesso visto che la prima edizione è andata ed è andata bene ecco cosa vi aspettate da questa seconda da questo secondo appuntamento? un'esplosione incredibile no no speriamo che più dell'anno scorso ci siano nuove nuovi giovani ma anche non solo a noi ci vanno bene tutti non solo i giovani tutte le fasce d'età però ecco che ci sia che la corte dell'asta si riempia di nuovo di tante persone speriamo beh insomma io ve lo auguro ma sono sicura che sarà così perché insomma diciamo che già l'anno scorso avevate fatto un bel rumore uno di quei rumori che fa piacere perché effettivamente le novità i festival come questi che danno spazio ai giovani lo ricordiamo fino a under 35 insomma non se ne vedono tanti l'opportunità che date a questi ragazzi è qualcosa di effettivamente molto molto interessante ecco davvero quindi io vi faccio un grandissimo in bocca al lupo ragazzi grazie e a questo punto vi do appuntamento l'anno prossimo all'anno prossimo grazie e allora anch'io vi saluto grazie per averci seguito e al prossimo appuntamento con Buongiorno Verona